La squadra è l'altra, Gaber? Mangiare Maggi Maros Liberta Pierna La squadra èolare Grazie. Grazie. Papà, vuoi andare più vicino così vedi lo zio? È lì a Paglia. Vediamo, vedi. È lì a Paglia. Io sto qua che ho l'attacco. Sì, vai tranquillo. Vieni, dai che mi hanno un'opinione per l'altro. Vieni, seguimi. Hai già zoomato un po'? Sì. Cosa hai di un dinosauro? Ah, la coroncina da principessa. Ma perché le Schlagger non sono più... Le Schlagger? Sono di alluminio. Ma l'alluminio che è conformale, veramente? ... 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